Alvia il 17 maggio la tredicesima edizione di Amico Museo, una campagna della regione toscana che mira a valorizzare il patrimonio museale del territorio. 186 le strutture che partecipano in 119 comuni, organizzando oltre 320 in larghissima parte gratuiti per far conoscere meglio l'offerta culturale. È una campagna che mette in luce la ricchezza dell'offerta del sistema museale toscano e crediamo appunto che riesca a far emergere proprio la forza di questo sistema e anche i contenuti che si possono... la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali nella nostra regione e d'altro ancora ci sarà un percorso che valorizza i musei lungo la via Francigena. Questo perché la via Francigena è un grande progetto di investimento della regione toscana per l'emersione e la valorizzazione di questo percorso che attraversa appunto la nostra regione e abbiamo pensato...